di Ilarion Alfeyev presento l'ottimo testo l'icona arte bellezza e mistero pubblicato da Edib. Si tratta di un agile libretto di appena 150 pagine ma va ricordato che questo è un estratto felicemente pubblicato della ben più corposa serie di cinque volumi di Ilarion Alfeyev dal titolo la chiesa ortodossa. All'interno del terzo volume, non è questo, che si chiama Tempio, icona e musica sacra è stato estratto appunto questo libro che adesso presento l'icona arte bellezza e mistero. Non rischio dicendo che è il migliore libro per capire le questioni chiavi dell'iconografia in una sintesi estrema, quindi un libro che non è consigliato ma che farei di più che consigliare. Nell'indice che è diviso in quattro capitoli molto agili l'autore si sofferma anzitutto a parlarci della pittura cristiana delle origini e quindi va a cercare anche tutta la questione dell'immagine nei primi secoli e a cui dà una risposta molto concreta che poi si sviluppa nel secondo ancora più importante capitolo la tradizione iconografica bizantina dove soprattutto incontra i grandi temi che noi conosciamo soprattutto messi a fuoco dall'oros del concilio niceno secondo del 787. Ecco poi dopo il capitolo terzo soprattutto si concentra sulla grande vicenda della icona russa e non soltanto parte come chiaramente evidente dalla teofa nel greco dalla sua opera passa attraverso l'epoca aurea del quindicesimo sedicesimo secolo del periodo moscovita ma poi arriva addirittura anche a parlare della pittura accademica e dell'icona russa nel periodo successivo alla rivoluzione quindi è di fatto in questi tre capitoli una panoramica straordinaria molto molto efficace molto profonda sulla iconografia a partire dai primi secoli fino ad arrivare all'avventura della iconografia russa contemporanea ecco poi soprattutto nel capitolo quarto l'autore che conosciamo è un grande teologo è un compositore un uomo di straordinari talenti e si intrattiene sul significato dell'icona dandone sei titoli significato teologico antropologico cosmico liturgico mistico e morale e davvero per chi vuole cominciare e a introdursi in questo mondo dell'iconografia credo che non ci sia miglior biglietto da visita di questo agile libretto di larion alfeyev ecco quello che dico per i principianti dico anche in realtà per chi vuole approfondire perché forse in nessun altro libro ho trovato una sintesi così ben fatta e così accurata di tutto ciò che l'iconografia è costituisce e rappresenta quindi un consiglio di cuore di leggere proprio questo testo di larion alfeyev e per i effetti Grazie.